Ciao a tutti amici e bentornati! Le ferie purtroppo sono finite e il lavoro è ripreso, ma non ci scoraggiamo, siamo più pompanti che mai! In questo video, dopo molte domande, andrò a cercare di spiegarvi appunto quello che io personalmente andrei a controllare se mai dovessi comprare un camper usato e soprattutto cercherò di spiegarvi le varie tipologie di camper esistenti perché appunto in tutti i miei video ho detto più volte che il camper va scelto in base alle proprie esigenze ma non ho mai fatto un video appunto dove vado a spiegare da cosa possono dipendere queste esigenze Quindi ragazzi, per i nuovi, se non l'avete ancora fatto, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanellina in tal modo da restare aggiornati ogni nostro nuovo video che uscirà dove appunto andremo a fare qualche viaggio, qualche lavoro oppure appunto qualche videodocumentario, chiamiamolo così dove cercherò di spiegarvi quelle poche cose che anch'io sono riuscito a capire dopo un po' di anni di camper Direi, non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo! Allora, partirei a farvi una breve spiegazione sui vari tipi di camper esistenti Le principali categorie che vi parlerò oggi sono tre e appunto sono il manzardato, il furgonato e il semi integrale Il mio camper è un manzardato, quindi qua dietro di me c'è un grande letto matrimoniale e cosa che si può vedere subito in patto d'occhio esternamente è molto più grande rispetto a un camper furgonato o semi integrale Io andrò a cercare appunto di elencarvi tutti i pro e i contro che secondo il mio parere personale fanno la differenza quando appunto si va a scegliere un camper perché è inutile magari andare a spendere soldi, andare a comprare un furgonato magari in quattro persone e pensare di farci una vacanza comoda 15 giorni Sì, magari alcuni furgoni lo consentono, magari i furgoni molto grandi però un camper di questo tipo è sicuramente un pro Partiamo subito con i pro e i contro Partiamo dal manzardato Ma prima di incominciare, piccola parentesi noterete che i pro e i contro sono gli stessi In base alla tipologia del camper andranno semplicemente a cambiare posizione Per esempio, i pro di un camper manzardato come questo che io ho trovato è sicuramente, come appena detto, lo spazio Lo spazio in un camper manzardato è veramente infinito Cioè, siamo stati in vacanza, in quattro persone in un camper come questo che non è neanche tanto lungo e vi assicuro che di roba ce ne sta veramente tanta Avanzava ancora spazio, quindi niente da dire E purtroppo i pro, penso, finiscano qua Ripeto, questo è un mio parere Poi ognuno è libero di pensarla come vuole Andiamo a vedere i contro nell'acquisto di un camper manzardato Allora, sicuramente, specialmente se vecchiotto sarà un po' più lento rispetto a un furgonato rispetto a un semi integrale Appunto, perché con la manzarda durante un viaggio sarà molto meno aerodinamico rispetto a un furgone Quindi, di conseguenza, aumenteranno anche i consumi Poi adesso sicuramente con i nuovi motori magari consumeranno un po' meno e saranno un po' più veloci rispetto al nostro poverino qua presente Altro contro sicuramente sono i parcheggi Nel mio caso, appunto, perché è un camper corto spesso riesco a cavarmela Ciò non vuol dire che parcheggio liberamente ovunque ma se il parcheggio è un pelino più lungo che posso andare un pelino più avanti col muso riesco a starci Se il camper dovesse essere più lungo, 7 metri sarei molto più vincolato magari a far libera e a parcheggiare in giro Consigliatissimo, come detto prima famiglia di 3-4 persone che vogliono magari andare in campeggio e non hanno di questi problemi Altro contro di un camper mansardato è un po' più soggetto a infiltrazioni Se appunto non viene fatta la giusta manutenzione sulle siliconature in tutti i contorni di tutto il camper essendo un po' più grosso e diciamo pezzi uniti di legno di qua e di là è molto più soggetto a infiltrazione rispetto a un furgonato che è una scatola di là Adesso invece andiamo a vedere quali sono i pro e i contro di un furgonato Qualche avventura con un furgonato ho avuto l'occasione di farla Era un Ducato 3002 non mi ricordo, Multijet comunque potentissimo Quindi diciamo anche la vita su un camper furgonato ho avuto l'occasione di farla Ho avuto l'occasione di andarci a girare la Puglia e la Toscana Allora, partiamo anche qua dai pro Qui diciamo si capovolge un po' il tutto sul mansardato Se il mansardato è un po' meno maneggevole il furgonato in autostrada è una scheggia Non ti accorgi quasi di essere sopra un camper I consumi sicuramente saranno un po' ridotti essendo un po' più aerodinamico Un altro pro è sicuramente il fatto dei parcheggi Un furgonato sarà sicuramente più comodo e più stretto da andare a parcheggiare Mentre per quanto riguarda i contro si gira il tutto e entra in gioco ovviamente lo spazio I mobiletti non sono grandi come questi Appunto abbiamo avuto la fortuna di fare due vacanze Vi assicuro che far stare le cose di Corinne e le mie cose ci sono state tranquillamente Però eravamo solo in due e non è avanzato tantissimo spazio Passiamo al semi integrale Purtroppo non ho mai avuto l'occasione di farci nessun viaggio Però qualcosa vi posso dire Partiamo dai pro Sicuramente si andranno a ridurre i consumi appunto perché gli manca la mansarda e anche lì rientra in gioco l'aerodinamicità Poi entra in gioco lo spazio Dove abbiamo una via di mezzo tra un furgonato e un mansardato Lo spazio è comunque tanto Però magari un esempio stupido che a me viene in mente Praticamente i semi integrali al posto della mansarda C'è il letto dietro che viene giù Poi magari non tutti i modelli Ma la maggior parte sono fatti così E praticamente ti va a coprire tutta la zona giorno Cosa che a me turberebbe parecchio Perché capita che andiamo in vacanza Io e la mia fidanzata E io ho il vizio di svegliarmi presto E lei continuare a dormire Quindi alzarmi, farmi il caffè Fare tutte le mie cose Cosa che in un semi integrale Non è possibile fare Sarà sicuramente anche lui Più maneggevole durante la guida E niente ragazzi Non avendolo mai provato Non posso dirvi Molte informazioni in più Ma adesso dopo avervi spiegato Le varie tipologie di camper esistenti Andiamo a vedere Cosa consiglio di andare a controllare Se mai vi trovaste A dover acquistare un camper usato O perlomeno quello che io personalmente Andrei a controllare Partendo dalla meccanica Un controllo generale di tutto il mezzo Guardare che non sia presente ruggine Nei punti essenziali Un po' di ruggine può essere normale Specialmente se è datato Ma appunto andate a controllare Che il telaio vero e proprio Non sia intaccato da ruggine Bucchi e robe grosse Inutile dirvi di andare a chiedere Se sono stati fatti i tagliandi E la cinghia di distribuzione Ma consiglio che vi do Se del lavoro che è stato fatto Non avete nessun documento Andatelo a fare comunque Quindi se vi è stato detto No no a posto Cinghia di distribuzione Tagliando Fatto ieri Regolarmente Prima cosa da fare Quindi da tenere in conto Se non avete un documento Che attesta che La cinghia di distribuzione E il tagliando è stato fatto Da tenere in conto Che appena il camper diventa vostro È una cosa da fare Dare una controllata alla frizione E per farlo è molto semplice Vi basterà Accendere il mezzo Mettere la prima E rilasciare lentamente la frizione Tenendo il pedale del freno schiacciato Il motore deve spegnersi E non dovete sentire appunto Slitamenti di frizione Altra cosa che vi consiglio di fare È andare a farvi un giretto E andare a controllare Il cambio Che entrino tutte le marce regolarmente I cuscinetti Quindi provare a mettere la folle E ascoltare il rumore delle ruote Sentire che non faccia rumori strani Altra cosa Le gomme Andare a controllare La sua data di produzione Se sono molto vecchie Sono da prendere E buttare immediatamente Anche se sono perfette Perché a me è successo Esplodono Se sono vecchie Col peso di tutto il camper È facile che vi esplodano Le cose che sarebbero Andare a controllare Sarebbero miliardi Ammortizzatori Freni E tante altre cose Quindi Per quanto riguarda Il reparto meccanica Se non siete un po' Del mestiere Vi consiglio di andare Alla vostra meccanico di fiducia Che non deve essere appunto Un esperto di camper E fargli fare un giretto A sentire un po' I rumori Della meccanica Altra cosa fondamentale Da andare a controllare In un camper Sono le infiltrazioni Ci sono vari metodi Per andarlo a fare Il più consigliato È portarlo in un centro Di controllo Infiltrazione Dove vi attesteranno L'effettiva Non presenza Di infiltrazioni Secondo metodo Sarebbe Con un misuratore Di umidità Appunto Facendo un giro Su tutto il camper Ripeto Su tutto il camper Intendo tutte le pareti Del camper Andare a controllare L'umidità Se non avete lo strumento La possibilità Di fare questo tipo Di controllo Vi consiglio di andare A fare un controllo Visivo È di tatto Perché se è infiltrato Da un po' di tempo Si sente Se l'infiltrazione è a breve Anche col tatto Se è asciutto Non lo sentirete Lì sareste un po' più Sfortunati Se invece L'infiltrazione È vecchia Si sente Appena passate col dito Si sente Ma andare a passare col dito Non vuol dire Andare qui In mezzo al tetto E controllare Che sia a posto Vuol dire andare A tastare Ogni singolo angolo Del camper Dentro gli armadietti Il più possibile Negli angoli Dove appunto All'esterno Si andranno a unire Le due lamiere Intorno ai turbovent All'ingresso Dei cavi elettrici Quindi andate a controllare Sul tetto Se sono presenti I cavi elettrici Sempre andando a tastare Che non entri acqua da lì Dopo aver controllato Le infiltrazioni Altra cosa Da andare a controllare Sono gli elettrodomestici Base Presenti sul camper Che sono Il frigo Il boiler La stufa E le batterie Per andare a controllare Il frigo Fatevelo accendere A gas E guardate Che la fiammella Si accenda Ma soprattutto Se avete la possibilità Vi consiglio di Chiedere al venditore Di accendervelo La sera prima In tal modo Da arrivare Il giorno dopo E vedere Che raffreddi Veramente Stesso discorso Per il boiler Chiedete al venditore Quando state guardando Il vostro camper Di accendere Il boiler Nel giro di 5-10 minuti L'acqua calda Deve uscire E stesso discorso Per quanto riguarda La stufa Fatevelo accendere Controllate Che effettivamente funzioni Mentre per quanto riguarda La batteria Io vi consiglio Se ce l'avete E sapete un minimo Di elettronica Di come funziona Un tester Di portarvelo dietro Farvi accendere Tutte le luci Tutte le luci Del camper E andare a misurare La tensione Della batteria Andare a vedere Che non scende Immediatamente Sotto i 12 volt Se no Anche lì Ci sarebbe Qualche problema Le cose principali Di cosa andare A controllare Su un camper Ve le ho dette In realtà Sarebbero tante altre Mi sono soffermato Su una verifica Appunto Che io Andrei a fare Personalmente Prima di andare A acquistare Un camper Poi ovviamente Ognuno è libero Di fare quello che vuole È libero di Fidarsi ciecamente Del venditore Che gli dice Tranquillo È perfettamente C'è di tutto Funziona tutto Oppure è libero Di portarlo Da un libero Professionista E farlo controllare Che sarebbe sempre La cosa migliore Perché i professionisti Sono professionisti Se siete arrivati Fino a qua A guardare questo video Vi ringrazio Spero che questo video Vi sia stato utile Se mai Doveste acquistare Un camper Se vi è piaciuto Come sempre Vi invito a lasciare Un like qua sotto Mentre se avete Qualche domanda Anche quella Potrete farmela Qui sotto E sarò pronto A rispondervi Per i nuovi Vi invitiamo A iscrivervi Che a voi Non costa niente Per noi È un supporto Grandissimo Con questo è tutto E ci vediamo Alla prossima settimana Ciao a tutti